Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Adesso invito Gianpaolo, ho già microfonato tutto perfetto. Non so se si sente. È una new entry dell'associazione Odoo Italia per la prima volta sul grande schermo. Un grande schermo anche io. Tutti abbiamo sognato prima della vita di andare. Stiamo realizzando un sacco di sogni. Bene, e quindi stiamo realizzando dei sogni. Di fatto il nostro è un sogno, una missione, un obiettivo che stiamo portando avanti. Allora, Gianpaolo ci presenta un modulo sulla gestione dei documenti. Sulla generazione dei documenti. Perfetto. Buonasera, buonasera a tutti. Scusate, è una new entry, noi gli facciamo l'applauso. Me lo devo meritare. Ok, allora presenterò esatto oggi un modulo di generazione di documenti che abbiamo sviluppato per varie necessità. Prima vorrei fare una brevissima introduzione sulla nostra azienda e anche su chi sono io. Quindi noi siamo una digital tech agency con base in Sardegna e ci occupiamo principalmente dello sviluppo software per start-up, aziende, PMI, enti pubblici ed enti privati. Io nello specifico ricopro la figura di project manager e mi occupo ancora più nello specifico della parte funzionale di UDU. Allora, parto con un po' di scenario, quindi perché è nata la necessità di sviluppare questo modulo? Beh, la necessità intanto è nata da una richiesta, anche da più richieste che sono arrivate dai clienti. Qual è questa richiesta? Era la richiesta di poter generare dei documenti che si basassero su dei template già a loro disposizione e che andassero a coprire tutte quelle che erano le loro necessità. Cosa significava questo? Significava dover impiegare delle risorse con competenze di taglio HTML e CSS abbastanza avanzate per poter andare a generare quelli che erano i template desiderati dai clienti. Questo chiaramente ha portato a lavorazioni abbastanza onerose, sia in termini di tempo che in termini di costi, che in termini di impegno della risorsa, solitamente dei tecnici o dei dev. E il risultato era molto lontano dalla perfezione, quindi dall'essere pixel perfect, o comunque da raggiungere un ottimo risultato. Questo ci ha portato, con l'aumentare poi delle richieste che sono arrivate, a pensare ad una soluzione, quindi la soluzione che ci è venuta in mente è stata quella di semplificare appunto il processo per la gestione e la generazione di questi documenti, andando a togliere dall'equazione l'utilizzo dei template Qweb e andando ad inserire invece l'utilizzo di template prestabiliti già a disposizione dei clienti in formato principalmente PDF o anche DOCX. Questo cosa ha portato? Ha portato a una drastica riduzione delle tempistiche di sviluppo e anche dei costi e di impegno della risorsa. Ha portato a una grandissima coerenza con tanti e diverse tipologie di template, anche molto complesse dal punto di vista grafico, e ci ha portato ad ottenere un risultato quasi pixel perfect, che è uno degli obiettivi di quasi tutti i clienti che penso gestiamo. Come funziona in breve il modulo? Molto semplicemente. Questo modulo ci permette di caricare il file, che verrà poi utilizzato come template e come base del report. Si vanno a definire una base di stringhe, un elenco di stringhe, che corrispondono al singolo campo che deve essere poi compilato, e ogni singola stringa verrà poi calcolata come codice, prendendo appunto i dati dell'oggetto da stampare o delle informazioni. Avremo poi inoltre la possibilità di apportare una personalizzazione abbastanza elevata su tutto quel che riguarda il campo font, quindi la famiglia, le dimensioni, il colore, l'allineamento, e cosa molto più importante, le coordinate che sono espresse su asse X ed Y, espresse in punti. Quindi, adesso vi vorrei far vedere un breve esempio che abbiamo creato per l'occasione su un modello F24. Così vi spiego un pochino come funziona il modulo, quali sono le possibilità che ha, e gli scenari futuri. Ok, quindi, no? Ok, quindi come primissima cosa dobbiamo andare a creare il nostro modello sul quale poi andremo a lavorare per l'inserimento dei dati del report. Su questo modello andremo ad inserire chiaramente un nome e un identificativo, che saranno molto utili nella fase in cui si andrà a sviluppare o ad inserire, se andranno ad inserire tutti i dati. Infine, già da questo wizard abbiamo la possibilità di caricare il file che fungerà poi da template e sarà poi popolato con le nostre informazioni o le informazioni dell'anagrafica dei nostri interessi. Chiaramente la possibilità che ci dà il modulo è quella di creare più di un modello che verrà poi elencato all'interno della preview di UDU e tramite poi la preview avremo la possibilità di gestire tutti i singoli modelli, di eliminarli, rinominarli e quant'altro. Questo è il wizard di creazione. Io adesso ho fatto uno screen con delle stringhe già presenti per farvi, per darvi un'idea un po' globale di quali sono gli elementi che andiamo a trovare al suo interno. Ok, a parte il nome e l'identificativo andremo a identificare quello che è il template su cui si baserà il tutto, che già in questa fase, se necessario, per un qualsiasi motivo potrà essere modificato o sostituito con un altro template. Troveremo poi anche quello che è il modello dei dati dai quali pescheremo le informazioni necessarie e successivamente una parte direi un pochino più importante sono le singole stringhe, quindi il singolo elemento che andrà a popolare i campi vuoti dal nostro template. In questo caso l'ID che identifica la singola stringa è molto importante. Perché? Perché in fase di creazione o sviluppo noi avremo la possibilità di ricevere dei feedback automatici dal sistema che ci indicheranno sia il codice dell'errore sia l'ID del campo che sta generando quel singolo errore. Questo chiaramente ci permette di andare ad agire in maniera molto puntuale, molto precisa su quelle che sono le problematiche e andare a risolvere con poco sforzo. Questo è un esempio di campo, quindi un esempio di stringa. Sicuramente la parte più importante è la prima ed è quella del codice. In questo caso noi abbiamo la possibilità di poter inserire il dato in tre modalità. Possiamo andare o in maniera manuale, quindi a digitare proprio quello che vogliamo venga visualizzato sul template. Potrebbe essere utile nel caso in cui si decida di inserire una label o un'etichetta non presente a template, per alcuni casi particolari, oppure un dato che non abbiamo a disposizione e abbiamo preso di seconda mano. Possiamo andare ad inserire chiaramente il dato in maniera diretta, quindi valorizzando quello che è il campo di nostro interesse preso dall'anagrafica del cliente, dell'utente o di qualsiasi altra anagrafica si tratti. E possiamo poi andare ad inserire direttamente del codice. Questa è una funzionalità molto interessante perché? Perché ci permette di andare a definire determinate logiche, if, then, else, che possono permetterci a punto di popolare il campo mediante delle logiche che solitamente non vengono utilizzate. proseguendo, chiaramente avremo inoltre la possibilità di decidere su quale pagina il dato deve essere stampato, perché possono essere gestiti anche documenti con più di una pagina, le coordinate x ed y espresse in punti, quello che sarà l'allineamento del testo e poi alcune impostazioni di stile per il fonte, ovvero la dimensione, il colore e la famiglia. Una volta definite quelle che sono le impostazioni dei singoli campi, potremo andare a creare le singole action, quindi si aprirà chiaramente il wizard di modifica all'interno del quale potremmo, oltre a definire l'azione, andare a definire quali sono i gruppi che hanno accesso a quella specifica e determinata azione. Il modulo già di default fornirà uno script base, che chiaramente potrà essere modificato utilizzando i nostri riferimenti dall'operatore che sta procedendo con la creazione del modulo. Sempre tornando sul wizard di modifica precedente, è anche possibile, inserendo l'id della singola stringa, quindi dal singolo campo, andare a vedere un'anteprima di quello che sarà il documento con il campo popolato. Questo perché risulta importante? Risulta importante perché già in fase di compilazione avremo la possibilità di vedere effettivamente se quel campo è stato compilato correttamente, è stato impostato nella posizione corretta e se vanno apportate eventuali modifiche possiamo agire in maniera molto puntuale, molto precisa. Chiaramente è molto utile per il primo documento che si fa ad impostare. Anche le action verranno poi riprodotte all'interno della preview di Udu e anche da qui sarà possibile effettuare le varie operazioni di gestione. Un ultimo appunto sui font, ovvero il modulo di default dà la possibilità di utilizzare quelli che sono i font già presenti su Udu. Però abbiamo provveduto ad inserire la possibilità di caricare un font purché sia un true type. Quindi si possono utilizzare veramente tantissimi font e questi font possono essere poi gestiti non solo per la totalità delle stringhe ma come abbiamo visto prima anche per la singola stringhe. Ok, una volta fatte tutte le impostazioni e definite le azioni da compiere possiamo andare effettivamente a generare il nostro documento per portarlo poi alla stampa. Noi abbiamo la possibilità di effettuare questa azione su un singolo record e quindi scaricarlo o fare l'anteprima per uno solo oppure possiamo andare direttamente a scaricare l'archivio di una quantità di report X. Quindi pensiamo ad esempio alla compilazione di un numero elevato di, non so, contratti nei quali vanno inserite un sacco di informazioni. Sicuramente ci fa già guadagnare un sacco di tempo che comunque, come sappiamo, il tempo è abbastanza importante. Riporto qui un piccolo focus per farvi vedere qual è la precisione effettiva del modulo che permette comunque di inserire i dati in maniera abbastanza precisa anche su campi un pochino più complessi come potrebbe essere ad esempio il codice fiscale oppure nel momento in cui si trattasse si tratta di inserire dei numeri, delle cifre che hanno dei numeri decimali e quindi vanno posizionate bene tutte le varie virgole. Su cosa si basa il modulo? Allora il modulo si basa sulla libreria che è pdfgen e questa va poi a regolare tutte le attività che vengono svolte sul singolo template pdf e anche quello che riguarda i font. Un'altra cosa abbastanza interessante è che i file, quindi i report, non vengono salvati direttamente sul disco, bensì vengono passati al wizard in formato base64 e non solo questo formato viene utilizzato per il singolo documento, bensì viene utilizzato anche per l'archivio, la totalità dell'archivio. Quindi il modulo, ritorno su questo, ci ha permesso di raggiungere quelli che erano un pochino gli obiettivi iniziali, quindi sia noi che i nostri clienti, ovvero la riduzione dei tempi di sviluppo, la riduzione dei costi di sviluppo, la possibilità di fornire un risultato molto preciso vicino al pixel perfect, nonché la possibilità di andare a gestire poi un grado di personalizzazione, perlomeno in questo caso per quanto riguarda i font, molto elevato. E quali sono i casi d'uso? I casi d'uso sono tanti, adesso qui ho portato un esempio di un F24, ma potrebbe essere un bollettino precompilato, potrebbe essere un contratto, che ho citato brevemente. Pensate a tutti i campi che sono necessari per generare e creare un documento del genere. Sono veramente tanti e questo ci fa risparmiare un sacco di tempo, ho fatto il primo. Possiamo pensare anche a situazioni più semplici. Ad esempio è capitato da pochissimo tempo, un cliente che effettua degli eventi di formazione aveva la necessità di stampare degli attestati, dato il nome della persona, il nome dell'evento e la data. Questi attestati sono semplicissimi da fare, devono essere consegnati il giorno stesso in cui si tiene l'evento. E questo è il modulo che ci permette di farlo veramente in maniera rapida e fulminea e comunque abbastanza preciso. È un modulo che ci permette anche di utilizzare dei template molto più complessi dal punto di vista grafico. Quindi pensiamo ad esempio a quelli che possono essere delle brochure, piuttosto che dei dei clienti, o addirittura volendo anche dei bigliettini da visita. Ci dà proprio la possibilità di espandere la sua funzionalità in maniera esponenziale. Il modulo chiaramente è sempre in sviluppo, quindi sarà sempre migliorato e continueremo a migliorarlo. Uno ad esempio delle necessità e delle feature che vorremmo rilasciare è quella di inserire un layer sul template in modo tale che ci permetta poi di individuare con molta facilità quelle che sono le coordinate X ed Y del campo. Un altro elemento abbastanza interessante che sarà poi implementato è quello di andare a gestire gli spazi tra le lettere o addirittura gli spazi tra parole direttamente dal wizard senza dover andare ad inserire per forza del codice che gestisca questo comportamento. Questo l'abbiamo già detto. Quindi in conclusione è un modulo molto molto versatile che ha la possibilità di essere sviluppato ulteriormente e che continueremo a fare. Adesso abbiamo rilasciato la prima versione per la 12 su Github poi vi daremo tutti i vari riferimenti nel caso in cui vogliate approfondire e chiaramente all'interno della slide poi sono presenti anche i nostri contatti per andare a prendere contatto e se avete ulteriori domande soprattutto di natura tecnica eccetera. Ok, sono stato velocissimo. Io ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Ci terrei a fare giusto tre ringraziamenti veloci. All'associazione perché comunque è molto interessante come evento e sicuramente è fantastico poter essere qui. Vorrei ringraziare Giuseppe che non è potuto essere oggi in questa sede che ha ideato, progettato e anche sviluppato il modulo. Naturalmente grazie a tutti voi per l'attenzione. Grazie. Diciamo un'ottima prima volta agli O2 Days Italia. Quindi diciamo l'ospicio di rivederci anche per la prossima edizione. Dove abbiamo già ricevuto numerose proposte. Come ben sapete gli O2 Days Italia sono itineranti. Noi scegliamo una città diversa ogni volta per cercare di coprire tutte le dà. È difficile ma ci proviamo. Allora aspettiamo l'estate prossima in Sardegna. Allora se sei in Sardegna rivienila già prenotata. Vabbè, ovviamente poi nel direttivo ragioneremo anche su questo. Come viene pilotata la posizione delle righe? Allora la posizione delle righe viene pilotata tramite le coordinate X ed Y quindi asse orizzontale e asse verticale utilizzando i punti del documento. Quindi in base al template che viene caricato vanno stabilite quelle che sono le dimensioni e in base a quello poi vanno stabiliti i punti nei quali l'informazione deve essere inserita. Come dicevo prima, quello che vorremmo andare a progettare nei prossimi tempi è proprio un layer soprastante al template come se fosse una specie di carta millimetrata che ci permetta, non so, un tocco del mouse o con un riferimento di 10 già quali sono le posizioni X ed Y e che le possa pescare poi in automatico sul modulo di formattazione. Piovono domande? Sì, sì, benvenne. Che posso rispondere ragazzi? Quando vuoi rispondere più me lo dici che tanto abbiamo tempo, hai recuperato minuti preziosi. Si può utilizzare template doc X e i suoi merge field o keyword? Ok, bella domanda, bella domanda. Si può utilizzare un template doc X? Sì, per quanto riguarda i merge field o keyword non ne abbiamo avuto ancora l'occasione ma non penso ci siano grossi problemi nel farlo. Riguardo al modulo dei report, è open source? Avete il programma di rilasciarlo? Quando? Sì, l'abbiamo già rilasciato per la versione 12 di Udu su GitHub, poi vi forniremo tutte le informazioni. Stiamo lavorando per rilasciarlo almeno sulla versione 16. La maggior parte dei clienti utilizzavano la 12. I tempi sono maturi per migrare alla 16. Dobbiamo un po' migrare. Avete valutato anche il report lab? No, non l'abbiamo valutato, però grazie per lo spunto faremo una pensata. Stimolante, il tuo talk ci ha praticamente sbancato tutto. Perché è semplice. Mille cose. Vengono gestiti i template per documenti a numero di pagine variabile? Sì. Ok. Che limiti performance ci sono per documenti grandi, multipagine, visto il passaggio di base 64 in memory? Allora, i limiti giustamente sono definiti effettivamente da quanto grande è il documento e da quanto è complesso. Tendenzialmente la tendenza è quella di limitare documenti abbastanza complessi a un'ottantina di record. Poi chiaramente dipende molto da come sono realizzati e dalla loro complessità. Ok, continuano ad arrivare domande. Ne leggiamo un'altra e poi dopo, come per tutti gli altri, faremmo, diciamo, una pagina con tutto dentro. Come funziona il salto di riga? Questa forse... Allora, come funziona il salto di riga? Vengono definite le coordinate X ed Y, se è quello che stai intendendo. Quindi definiamo noi quali sono le righe che vanno popolate. Il passo praticamente da una riga all'altra. Ok, perfetto. Esattamente. Va bene. Io ti ringrazio. È stato un piacere averti all'YouTube East Italia. Un piacere è nostro di aver partecipato. Un applauso a Gianpaolo. Odoo Italia A fianco delle imprese italiane Un applauso a Gianpaolo Un applauso a Gianpaolo